Parla anche Aquilano la grandissima performance delle ragazze del rugby che a differenza degli uomini vincono e convincono e per loro è stato decisamente il miglior sei nazioni di sempre. Le ragazze del lita rugby, allenate dall'Aquilano Andrea Di Giandomenico che ormai le segue da dieci anni, sono arrivate seconde dietro l'Inghilterra, fortissima e super favorita, migliorando dunque anche il terzo posto del 2015. La nazionale femminile quindi, a differenza degli uomini, ha ottenuto un risultato storico concludendo il torneo per la prima volta in seconda posizione. Noi siamo molto convinti del lavoro che portiamo avanti, sappiamo di avere un gruppo di atleti che è assolutamente, partendo dalla loro fortissima motivazione e anche, non so se la parola giusta, è fertilissimo come gruppo nel recepire e nel portare avanti le idee di gioco che vogliamo sviluppare. Quindi questo secondo posto credo sia per loro, è giusto che sia così, ma non per il nostro lavoro del quale saremo comunque soddisfatti e orgogliosi, ma per loro perché lo meritano da tanti punti di vista. La squadra è allenata, come si diceva, da Andrea Di Giandomenico, Aquilano, ha ottenuto questo secondo posto importantissimo, vincendo 31-12 lo scontro diretto con la Francia, detentrice del titolo, domenica pomeriggio allo stadio plebiscito di Padova. L'Italia è riuscita a vincere senza concedere le avversari il punto bonus e ottenendolo invece a sua volta per aver segnato 4 mete il bonus offensivo. Nei turni precedenti l'Italia aveva battuto 28-7 la Scozia-Glasgow, pareggiato 3-3 a Lecce con il Galles e vinto 29-27 contro l'Irlanda-Parma. La settimana scorsa Exeter aveva subito una pesante sconfitta per 55-0 contro l'Inghilterra, squadra che quest'anno si è dimostrata di livello nettamente superiore all'avversario e vincendo anche il grande slam. Per questa nazionale, che parla anche molto Aquilano grazie alla presenza di alcune giocatrici, è un risultato davvero strepitoso che merita il grande impegno delle ragazze e del suo allenatore e di tutto lo staff.